Buongiorno! Oggi finalmente apriamo anche noi le LOL Surprise. Finalmente le ho trovate, le ho trovate al Toys, perché come penso ormai lo sanno tutti, non si trovano in edicola, si possono trovare solo nei negozi di giocattoli o nei vari siti online. Mi sono vista 250.000 video per vedere un attimino cosa si trova, cosa non si trova e ho fatto anch'io la tecnica, ma non l'ho trovata quella con le due piccoline in teoria, fa niente. Quello che trovo, trovo, l'importante è non trovarle doppie. L'avete vista in 50.000, però vi faccio vedere brevemente e velocemente la bolla. Vabbè, 0-3 anni, come tutte le blind. Qua manca un pezzettino, perché la tipa del Toys, al posto di segnalmene due, me ne ha segnate tre e me ne stava facendo pagare una in più, quindi ha voluto questo tagliandino qua. Ha voluto praticamente il codice a barre, poi per restituirmi i soldi. Niente, come si suol dire, bando alle ciance, iniziamo, partiamo subito da questa qua. Allora, ci sono, io lo dico, ma tanto ormai lo sanno anche i muri, sono sette livelli, nel primo si trova l'indizio, nel secondo livello gli adesivi, nel terzo il biberon, la bottle, il bicchiere, un po' di tutto, nel quarto le scarpine, nel quinto il vestitino, nel sesto l'accessorio e alla fine troviamo la nostra dollina, che può piangere, sputare, far pipì o cambiare colore. A me piacciono quasi tutte, quindi, quella che viene, viene. Allora, quindi qua è già aperto, andiamo a scartare la nostra cipolla e vediamo il nostro indizio. Allora, abbiamo un vestitino e il ventilatore. Io, qui c'è scritto Fashion Fun, io ho visto, se non ricordo male, che chi ha trovato questo indizio, ha trovato la dollina quella che assomiglia un pochino a Marilyn. Vediamo. Qui troviamo gli adesivi, eccoli qua. Oh, non mi sembra vero, finalmente le scarto anch'io. Eccoli qua, i nostri adesivi, per segnare poi sul librettino cosa abbiamo trovato. Poi, mamma che emozione, questo è la nostra prima blind, abbiamo trovato, aspettate, infatti c'è. Ecco il primo bicchierino, non è la mia, mi sembra, questo qua l'ho visto, sì, però non mi viene in mente. Metti a fuoco, tesoro. Dai, su. Allora, intanto vediamo sotto che la bolla è rosa. Qua abbiamo le scarpine, e volendo già dalle scarpine si può capire chi abbiamo trovato. Dopo 7500 video visti. Scarpine rosse, ma giorette. No. Vuoi vedere che ho ragione, che è la Marilyn, aspettate che voglio vedere. Cioè io la chiamo Marilyn, ma non si chiama cos'è. Allora. Queste sono le, dove ho messo il fuoco però? Queste sono le scarpine, piccolissime. Eccole qua. Scarpine. E andiamo con... Il vestitino. Madonna. Sì, è lei, è lei. Dentro c'è il suo... No, dai, guardate. Bellissimo. Allora. Ok, allora, qui abbiamo le istruzioni per come usare la bolla, che diventa una borsetta, diventa la piscinetta. Ah, che carina. Diventa... Con questo, vedete? Si attacca qua. Facciamo subito... Praticamente faremo 26 ore di video. Ok, questo. Lol Surprise. Questo poi è lo stand per mettere la dollina. Intanto andiamo ad aprire l'accessorio. Che sono... Bellissimo. Sì, allora gli indizi erano proprio quelli. Qui abbiamo l'altro pezzo. Qui abbiamo la checklist. Eccole qua, finalmente. E noi abbiamo trovato Lady in Baby, che è una Fancy. E c'è una cosa, ci piace. Andiamo a vedere che carina che è. Il profumo è molto di plastica. Che carina. Oh, lei piange. Vedete? Vediamo se riesco a farvi... Vedete? Al buchino. Dopo... Quando abbiamo aperto anche l'altra, poi dopo vediamo di... Lo facciamo subito. No, prima la vestiamo. Allora. No, vabbè. Bellissima. Carinissima. Ok. Oh, tenera. Che carina. Qua c'è il suo... Ci sono... Eccoli qua. Eccola qui la nostra LOL. Bellissima. Eccola. Ta-da. Qua c'è il vassoietto con la pizza. E ci sono... Delle scritte... ABC, LOL. Praticamente quando la facciamo sedere qua, questo si incastra qui, in modo che lei può mangiare. Quindi, questo mettiamo qua. Questa la spostiamo un attimino indietro e direi di andare ad aprire la seconda. Wow! Wow! Aspetta, aspetta, anche questa l'ho vista. Questa qua è la nerd. Questa, dunque, abbiamo il joystick e gli occhialini, la faccina da nerd. Vediamo, eh. Gaming Geek. Allora, le... Aspettate, qual è che era? Questa. Sembra che era... Metti a fuoco. Sembra che hanno trovato questa qua, con questo indizio. Vabbè, vediamo. Qui abbiamo ancora i nostri adesivi. Adesso troviamo il biberon, o bottiglietta, quello che è. Praticamente è uguale a quello che ho trovato prima, peccato perché avrei voluto trovare la jar, che mi sarebbe piaciuto un po' di più. Oh là là! Ecco, se devo essere sincera, mi sarebbe piaciuto tantissimo trovare l'amicetta. Però, vabbè, qua abbiamo le... No, aspetta. Ah, ok. Non è... In teoria non è... Aspetta, sì, dovrebbe essere lei invece. Gli stivaletti. Carini, piccoli. E qui troviamo il vestitino. Eccolo qua. E dal vestitino... Eccola qua. Ticcio spezzi. E ci piace, dai. È una popular, ma carina. Anche qui la bolla è rosa, non me ne ho neanche accorta. Qua abbiamo sempre le nostre istruzioni. Montiamo sempre il nostro stand. Qui abbiamo gli occhialini da nerd. Belli. Abbiamo sempre la checklist. E finalmente... Abbiamo... Eccola qua. Dai, carinissima. Amore. Ecco, questa qua... Fa la pipì. Sì, perché... Non ha bucchia, meno che... Vabbè, in teoria fa la pipì. Quindi, direi, adesso la vesto subito. No, troppo bella. Sono bellissime. Così. Oh! Ha zaccato la testa. Mettiamogli subito il vestitino. Dai, ma che tenera. Gli mettiamo gli occhiali che si vanno a fermare qua. Questa è bella da vedere, proprio con gli occhiali così. Ah, voilà. C'è. Bella. Adesso ho preparato anche l'acqua che giustamente... Allora. Qui abbiamo... Qui abbiamo... La nostra... Acqua. Ce n'è, sì. E... Guardate, eh. Magari gli occhiali... Un po' imbranata. Ehi! Li vediamo. Allora! Allora! Sputa! Poi quando devi fare le cose... Adesso la carichiamo. Ah! Ha sputato! L'hai visto? Che carina! Non fa la pipì, allora sputa questa. Vabbè, questa l'abbiamo vista. Adesso vediamo la Marilyn che dovrebbe... Vediamo. Madonna! Prendiamo il suo... Questo qua lo... Scusate ragazze, ma... Ma che carina! 200 ore di... Di video per vedere la bambolina che... Non capisco perché non... Sì, ha pianto. Ha pianto! Si è visto, no? Scusate, ma... Sono impedita? Ha pianto! Che disastro! Bene! Io con il mio disastro, le mie dolline, e tutto il mio... disastro che ho fatto... Però, ragazze, mi sono troppo deviata da aprirle. Io con Marilyn e la Nerd vi saluto, vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!